buon sabato e benvenuti alla rassegna stampa di fano tv siamo in diretta sono le sette ben ritrovati cari telespettatori e allora affrontiamo insieme questo fine settimana il primo di questo settembre che comunque come vedremo tra poco si presenterà ancora soleggiato e ancora con qualche coda estiva che si può sfruttare per andare per chi può anche al mare ma andiamo con ordine vediamo il santo di oggi subito con la grafica ci inchiniamo di fronte a questa santa straordinaria umile dolcissima santa teresa di calcutta 6 e 38 l'alba il tramonto alle 19 42 come dicevamo appunto oggi abbiamo cielo sereno poco nuvoloso anzi sereno su tutta la regione marche con temperature in aumento domani ancora soleggiato sul pesarese e sulla costa san benedettese un po di nuvole sull'anconetano per il resto diciamo insomma tutto tranquillo il lunedì invece la settimana prossima si apre con rovesci dal pomeriggio con possibilità di piogge dunque soprattutto nella in montagna al sud contemporanei e dal tardo pomeriggio nell'estremo settore settentrionale della regione quindi pioverà sulla costa anche di pesaro e urbino temperature in lieve aumento e allora vediamo anche i prossimi giorni condizioni tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana parte come dicevamo lunedì le temperature velocemente uno sguardo anche alle temperature previste per oggi alle ore 14 come vedete siamo intorno ai 25 26 gradi sulla costa mentre sui sulle montagne intorno ai 18 17 18 gradi prima di andare a leggere i giornali come sempre andiamo a vedere com'è la situazione al mare con il nostro tom il bagnino che anche oggi è al suo posto di lavoro ai bagni carlo in sassonia fano buongiorno tom buongiorno marco buongiorno a tutti allora che cosa ci dici oggi come ci dacci un po di sprint guarda oggi marco giornata bellissima alba sul mare veramente veramente bella mare piatto quindi condizioni meteo marine favorevoli sarà un buon weekend colgo l'occasione perché se tu vai ti sposti un attimo là ci sono gli scogli no non ci sono non credo che appartengono alla vostra spiaggia ma no ci sono anche quelli là sì sia quelli esatto verso sud ma anche gli altri scogli hai fatto bene a indicarli ecco domanda semplice semplice non ci si può salire per fare i tuffi quelle cose lì ricordiamo assolutamente no sopra le scogliere chiaramente le scogliere non nascono come piattaforma per i tuffi ma sono delle delle barriere delle delle barriere che saranno bisogna guardare la costa quindi sopra la scogliera sia quella che queste giallisippo che queste che proteggono la costa di sassonia è assolutamente vietato qualsiasi tipo di attività però la gente ci va e si chiudono tutti e due gli occhi assolutamente purtroppo è così allora buon fine settimana buon lavoro buon estate ancora una giornata estiva dai oggi ci consoliamo grazie ciao buona giornata allora andiamo a vedere il nostro sito internet perché sulla prima pagina la redazione intorno a mezzanotte ha pubblicato una notizia guardiamo il titolo a fuoco il rimorchio di un camion vigili del fuoco in azione da ora entriamo dentro nella pagina del nostro sito internet vedete che cosa è successo è successo che è andato a fuoco il rimorchio di un camion che trasportava rifiuti pompieri sul posto dalle ore 20 stanno ancora ricaricando le autopompe eccetera eccetera non si registrano feriti però come vedete il nostro operatore è andato sul posto e ha realizzato una serie di video allora vediamoli un attimo non so se abbiamo anche anche l'audio ma comunque sì abbiamo anche l'audio pertanto per farvi vedere un attimo come come sono andate avanti le operazioni di spegnimento ieri sera guardate quanta gente anche quanti quanti vigili del fuoco perché poi hanno dovuto chiamare i rinforzi tutte queste notizie chiaramente le trovate sul nostro portale occhialonotizia.it sempre aggiornatissimo questa abbiamo battuta appunto ieri intorno a mezzanotte dobbiamo fare gli auguri questa mattina gli auguri che non ha una persona ma una struttura una struttura che sta nel cuore ancora di tantissima gente anche se fondamentalmente si ci si augura di non andarci mai o comunque il meno possibile oggi compie cento anni l'ospedale di fano santa croce e c'è un libro che io ho qua che mi ha portato una persona che ha scritto il dottor marco belogia un libro molto molto bello si intitola santa croce un ospedale nella storia non so nemmeno se sia disponibile se si trovi ancora in circolazione però è molto molto dettagliato con tante foto tante tante notizie importanti interessanti tra le quali c'è anche questo questa cartolina che è un manifesto anzi un manifesto inaugurale del nuovo ospedale santa croce e anche un manifesto una cartolina per la posa della prima pietra andiamo a vedere che cosa scrive il resto del carlino poi andremo a vedere le prime pagine allora ospedale santa croce cento di questi anni fu inaugurato il 5 settembre del 1920 iniziata la costruzione però nel 1914 quindi sei sei anni ci sono ci sono voluti anche se poi la struttura fu completata nel 1917 ma dopo ci volerò tre anni insomma per arredarlo e dotarlo di tutte le moderne apparecchiature compresa una vasta sala operatoria i reparti di medicina chirurgia e perfino un reparto per gli infetti insomma nel 1920 il santa croce si proponeva come uno dei migliori ospedali delle marche tanto che il giorno dell'inaugurazione era presente il professor cappelli noto chirurgo del tempo la città era guidata allora da alessandro mariotti un sindaco non ancora trentenne la sua realizzazione costò dice ancora scrive belogi nel suo libro un milione e duecento mila lire e al suo finanziamento contribuirono un fanese con 40 mila lire che però volle rimanere anonimo e la cassa di risparmio di fano che di lire ne mise 60 60 mila lire il traguardo del secolo di vita è oggi ricordato dal sindaco massimo seri che ha però preferito rinviare le celebrazioni dopo il 21 di settembre magari proprio con coloro dice lui che saranno i nuovi amministratori della regione anche perché oggi giustamente fare una cerimonia di questo genere per festeggiare i cento anni sarebbe stata comunque una cerimonia quanto meno strumentalizzata per quanto dal punto di vista politico insomma siamo in campagna elettorale e sappiamo quanto è importante soprattutto nella nostra provincia il discorso della sanità e poteva ospitare 100 pazienti all'epoca l'ospedale santa croce e naturalmente ne parla anche il corriere adriatico sulla pagina di fano questo è il manifesto la locandina del 1920 che vi dicevo vedete fano 5 settembre 1920 con quattro fotografie che ritraggono la struttura questo è l'ingresso che si vede anche dalla strada da via vittorio veneto insomma anche qui sul sul corriere troverete alcune informazioni interessanti su questa ricorrenza su questa data allora adesso invece andiamo a vedere subito i titoli e la pagina principale del dei due quotidiani allora il l'edizione di pesero del carlino apre con lo schianto mortale nell'area di sosta siamo nella nella 14 una tragedia all'autogrill foglia est l'auto finisce contro il guardrail marito e moglie senza scampo a centro pagina la stagione salvata i bagnini tirano le somme per come eravamo partiti dicono loro è andata più che bene e poi l'incendio con il rimorchio ve l'abbiamo fatto vedere poco fa divorato dal fuoco paura e danni a a case bruciate sì non vi ho detto scusate dove era questo dove è avvenuto questo incendio delfino e siamo alla breve di sport delfino è un giocatore di basket parole da capitano responsabilità e orgoglio ma c'è anche il problema e qui siamo di spalla sulla sinistra del covid controlli anti covid test sierologici per le scuole le scorte stanno per finire e le classi pollaio invece a pochi giorni dal via è allarme ci sono alcune casi casi non risolti soprattutto a pesaro la regione aumenta gli spettatori teatri e arene con meno limiti per le presenze vimini dice ecco la nostra strategia e poi da tavuglia cancella latari ai negozi per i mesi di stop cioè durante il lockdown quindi marzo aprile uno dei pochi comuni tavuglia ad avvarare questo sconto il sindaco dice questo è un segnale di vicinanza il Corriere Adriatico sempre edizione di pesaro apre con la scuola task force se il bimbo sta male il coordinamento territoriale coinvolgerà area vasta pediatri e dirigenti per l'iter da seguire il distretto sanitario metterà a disposizione anche gli operatori per aiutare nelle procedure intanto la fotografia del tragico terribile schianto avvenuto all'ingresso dell'autogrill l'area di servizio foglia est morti marito e moglie l'epidemia i contagi attenzione in famiglia avvengono adesso i contagi più frequenti mentre i ricoveri scendono addio a Ilda Cominelli il pioniere del basket il papà del play Matteo è scomparso 87 anni primo peserese con la maglia della nazionale altro esame per la VL in supercoppa oggi contro il sassari e allora andiamo a vedere la pagina interna e questa è la pagina del Carlino con le immagini terribili di questo schianto i momenti in cui la macchina la suzuki ignis in cui viaggiavano le vittime è stata messa sul carattrezzi eccolo qua il punto in cui è successo guardate proprio all'ingresso qua si va verso l'autogrill qui a far rifornimento qua c'è lo spartitraffico e qui ci si è piombato praticamente contro sono le vittime si chiamavano Mario Cecconello e Fiorangela di Camillo entrambi del 39 quindi avevano 81 anni erano residenti a Como e stavano rientrando da Teramo dove avevano passato un po' di giorni in vacanza è successo ieri intorno alle 11 e 45 tra le ipotesi la velocità elevata oppure un malore un colpo di sonno del conducente alla guida c'era il marito l'81enne appunto che stava guidando la moglie invece era di fianco nel lato passeggero ieri mattina dopo l'identificazione dei due coniugi le forze dell'ordine hanno visato la figlia ed il figlio il figlio è anche un dj molto noto a Como i quali sono sono subito partiti e si sono messi in viaggio per pesero per poter vedere per l'ultima volta i genitori questa invece la notizia dell'incendio che è avvenuto a case bruciate paura ieri sera il mezzo era stato appena parcheggiato dal proprietario che è riuscito a salvare la motrice dice lui dice lui fabio giorgini sono in 40 anni che faccio questo lavoro non mi era mai successo per fortuna avevamo messo via la motrice ero appena tornato da un viaggio fatto a castel san pietro la pagina di urbino e di fano del corriere adriatico allora intanto per quanto riguarda fano piazza andrea costa improvviso scusate improvvisazione flop tonelli ai prodotto danni enormi torna il parcheggio dunque nella zona dietro dietro il mercato del pesce stop alla zona traffico limitato la lega di fano attacca l'assessore dice la prossima volta ascolti le associazioni a urbino invece residenza protetta per minori lasciata senza corrente elettrica la cooperativa pathos ospita giovani con disagi settimana di inferno dicono loro aiutati solo da era imola i debiti non sono nostri mentre sulla pagina di fano del resto del carlino si parla di scuola scuola si riparte ma tra mille precauzioni tra i banchi tutti sui banchi gli alunni delle prime classi delle quinte per gli altri anni didattica in presenza integrata con quella a distanza ovviamente tra le misure ci sono i gel igienizzanti e per i casi sospetti invece previsti spazi dove attendere l'arrivo dei genitori ma il carlino ospita anche il parere di paolo clini docente dell'università politecnica delle marche che dice riaprire la scuola il 14 settembre è una follia e in tema di scuola a urbino università ancora fra le prime al mondo l'ateneo urbinate indicato da the world university ranking 2021 nella fascia 501 600 sulle circa 20.000 selezionate di cui 49 sono italiane la stagione estiva è andata bene anche a pesaro c'è chi smonta e chi va avanti i bagnini è stata dura dicono ma è andata bene alcuni stabilimenti continueranno fino a metà settembre altri finché ci saranno i bagnanti la cna dice ricavi giù almeno del 20 per cento arkansas parliamo di economia di territorio il 60 per cento ad un fondo il titolare amedeo scria scriattoli 63 anni o scriattoli adesso io non lo conosco personalmente ma comunque bene lo stesso 63 anni fanese casa gimarra che ha ceduto il 60 per cento della sua azienda arkansas mantenendo sia il ruolo di presidente che quello di amministratore delegato e ad acquisire la maggioranza di questa industria che ha stabilimenti produttivi a piaggia mondavio il fondo di investimenti con sede a padova grandiente sgr cosa abbia pagato questo fondo le quote di maggioranza di questa società che ha chiuso il 2019 con 30 milioni di fatturato 110 dipendenti non è stato reso noto negli ultimi quattro anni questa azienda ha avuto un incremento di fatturato del 57 per cento scrive gennari sul carlino di questa mattina poi il lutto che ha colpito il mondo dello sport pesarese ci lascia il da cominelli primo al fiero azzurro pivò sinuoso ed elegante anticipò i tempi l'esordio in nazionale a soli 18 anni fu fermato da una malattia poi fece il medico aveva 87 anni oggi alle 16 e 30 i funerali a cristo re stiamo parlando chiaramente di pallacanestro tra le persone ricoverate cosiddette illustri e oltre a berlusconi nelle marche abbiamo anche l'ex ministro francesco merloni per lui il plasma iperimmune come cura ha un principio di polmonite è ricoverato al torrette di ancona le condizioni sono stazionarie non è comunque in terapia intensiva la sua età avanzata richiede molta attenzione tra i pazienti curati con l'innovativa cura torrette appunto sono tre tre i pazienti con curati con il plasma iperimmuno iperimmune scusate e il suo ricovero nel nosocomio regionale risale al 27 agosto e in questi dieci giorni trascorsi le sue condizioni stando a fonti ospedaliere sarebbero comunque stazionarie i contagi parliamo di contagi perché adesso dopo la prima ondata di contagi dovuti al rientro delle vacanze eccetera adesso il problema dove sta sta nelle famiglie quindi attenzione perché ai luoghi affollati ai traghetti e ai lidi delle vacanze sono a preoccupare i contatti ravvicinati del quotidiano quello cioè con i familiari con i conviventi perché in questo avvio di settembre i contagi domestici sono la prima causa di diffusione dell'epidemia nelle Marche da martedì a ieri 71 nuovi casi di positività emersi in quattro giorni di esame di laboratorio ben 22 arrivano proprio da cluster domestici più dei positivi provenienti da viaggi all'estero che sono 20 e dei casi sintomatici che sono 12 negli ospedali pazienti che sono ricoverati scendono da 14 a 13 solo un paziente ricoverato in rianimazione mentre per quanto riguarda gli screening della scuola in questo momento quello che viene chiamato il tamponificio proprio anche degli addetti ai lavori nel senso il tamponificio sta lavorando tantissimo soprattutto per garantire un ritorno a scuola in sicurezza e quindi c'è questo screening che viene fatto ai docenti e al personale ATA e tra tutti questi tamponi tutti questi screening soltanto un paio di persone sono risultate positive appunto al tampone ancora dalla rassegna stampa questa pagina l'abbiamo presa dal carlino nazionale perché ha un risvolto ovviamente locale perché si parla di una radio una radio che trasmette su internet e che è dedicata all'esercito si chiama radio esercito e da dove trasmette trasmette da pesaro l'emittente dell'esercito trasmette da pesaro online ci sono 25 dj e speaker militari la programmazione prevede notizie sulle forze armate società meteo e anche musica tra questi c'è anche vedete il direttore artistico esperto in psychological operation andrea gallieni 44 anni tenente colonnello direttore artistico di questa radio dell'esercito che ha seguito il progetto praticamente dall'inizio ora in procinto di cambiare in carico gallieni esperto come abbiamo detto di psychological operation operazioni psicologiche per un anno l'emittente è stata operativa solo su internet ora è attiva sul sito esercito.difesa.it l'emittente a sede presso il 28esimo reggimento pavia che si occupa di attività comunicativa prevede come abbiamo visto interviste news sulle missioni dei nostri soldati impegnati nei teatri operativi all'estero le pagine del corriere adriatico da senigallia misure anti covid lungo lavoro in corso servono ritocchi per cinque scuole quattro materne ed una alimentare vanno adattati alle direttive ci sono fondi comunque del ministero per 230 mila euro poi sempre da senigallia dio isola pedonale sul lungomare da questa sera modalità bassa stagione niente proroga per la movida la polizia locale farà scattare la chiusura in caso di emergenza poi la cronaca uno scooter contro un'auto un ferito un uno schianto avvenuto sulla corinaldese un ragazzo di 16 anni medicato all'ospedale cittadino da fermo 11 milioni per gli scorso aprile aiuti ai familiari del personale sanitario ucciso dal virus sulle cose serie noi italiani dice della valle ci siamo sempre e poi da grotta mare la tragedia di san benedetto la coppia che aveva intenzione di fotografare probabilmente l'alba ma il bagno è risultato fatale l'autopsia sul secondo cadavere ripescato in mare conferma la stessa causa di marchetta la 17enne manca l'ufficialità del dna per stabilire che il corpo è del compagno della ragazza cieca ma ormai insomma ci sono pochi dubbi intanto qualcuno racconta di cosa potrebbe essere accaduto in quel in quel momento in quella situazione quando la coppia si era alzata presto domenica mattina per andare a fotografare l'alba dagli scogli non aveva preso il canotto come solitamente faceva e quindi probabilmente hanno raggiunto anzi senza probabilmente sono andati sugli scogli con diciamo a nuoto e però chi conosce bene quel tratto dice in quel punto anche se non è molto profondo si creano delle forti correnti che potrebbero aver messo in difficoltà la coppia inoltre con il mare grosso e domenica il mare era agitato è difficile tornare a riva perché è impossibile riuscire ad aggrapparsi alle scogliere che diventano come saponette e come seconda cosa le onde vanno ad infrangersi sul pennello e tornano indietro così si riduce la visibilità e si inizia ad ingerire acqua purtroppo a causa delle onde che si infrangono sugli scogli a quel punto che cosa succede beh succede una cosa inevitabile vieni preso dal panico perdi il controllo ed affoghi questo forse probabilmente è quello che è successo questa sfortunata coppia di di giovani che si era trasferita per le vacanze facendo 1300 chilometri di strada dalla repubblica cieca fino a martin sicuro in abruzzo dove avevano preso in affitto un appartamentino e stavano godendosi questa vacanza nella nella nostra italia siamo allo sport prima di chiudere andiamo a vedere le pagine del corriere adriatico eleuteri carica la vis trovato un bel gruppo c'è tutto per fare bene dice lui il cursore prelevato dall'atalanta prime impressioni molto positive costruita una rosa all'altezza per disputare un campionato importante sarà bello iniziare affrontando l'ascoli quella maglia per me evoca ricordi speciali il fano invece ho scelto fano per rilanciarmi il portiere meli arrivato in prestito dall'empoli con il rimini una beffa dura ad accettare ora sono qui grazie anche ai consigli di zauli e con tanta voglia di dimostrare il mio valore mentre l'urbino completa l'attacco con montanari è proprio l'under che serviva a mister crespi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata un buon fine settimana e vi do appuntamento con la rassegna lunedì mattina ma questa sera alle 20 e 30 come sempre c'è 7 per occhio 7 per occhio è un magazine che racconta e raccoglie un po' tutte quelle che sono le notizie più importanti di questa settimana ma va da sé lo dico sempre che se ci fosse qualche notizia importante nell'ultima ora la nostra redazione è sempre operativa e quindi ve ne daremo conto anche se si tratta del magazine della settimana buona giornata a tutti e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti